La sfida è ciò che ci spinge costantemente oltre i limiti. Penso di aver creato qualcosa di speciale. Se siamo sognatori, di cosa sono fatti i sogni? Siamo sempre alla ricerca di emozioni. Trent'anni con i migliori designer, chiedendo loro sia che curiosi e corrette rischi. Ogni prodotto mi dà la possibilità di esprimermi e di farmi il meglio. Non smettiamo mai di imparare. Siamo nati per sviluppare rapporti destinati a durare. Il dettaglio è qualcosa che si percepisce, si respira, si vive. Il mondo è fonte di ispirazione. Impariamo, cresciamo e creiamo emozioni. Infrage le regole per creare l'imprevisto. Un design iconico non è un mero colpo di fortuna. Passiamo più di 25 anni della nostra vita seduti. Perché a farlo su oggetti scomodi? Sono fiero di fare ogni giorno ciò che amo. Qual è la tua storia? Mi piacerebbe ascoltarla. Che si tratti di design o di materia? Non lasciamo niente a casa. Questo è ciò che rende archetipo il team perfetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.